ciao a tutti bellissime principesse e regine eh sì siamo tutti quanti principesse e regine noi siamo oggi nel mio bagno perché ho deciso di dedicare una serie di video che riguardano la cura del viso e oggi cominceremo con la cosa più importante è vero con la pulizia del viso ora vi mostro che non faccio solo pulizia del viso ma anche il massaggio quindi cominciamo ho messo gel detergente sulle mani bagnate e cammincio a distribuirlo sul viso così facendo attivo l'infodrinaggio seguendo naturalmente le linee poi ho aggiunto ancora un po l'acqua sul viso per far scivolare meglio il gel e continui con l'infodrinaggio ora con questa parte delle mani cammincio a massaggiare il tessuto sottocuttaneo con la forza moderata poi cerco anche muovere il collo adesso con questa parte delle mani cammincio a massaggiare i muscoli del viso dopodiché massaggio la fronte e sopracciglia poi continuo a massaggiare questa parte del viso e proseguo con l'infodrinaggio per rimuovere gonfiore e impunità ora con questa parte delle mani vado a massaggiare le guance e linee del viso con movimento dal basso verso l'alto sempre con la forza moderata continuo sempre con l'infodrinaggio e ora vi mostro tutto il procedimento di continuo che faccio ogni mattina ciao 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 come vedete servono pochi minuti di trattamento ma vi assicuro che i risultati sono ottenuti il viso appare più tonico e luminoso ora con aiuto delle spugnette cerco di rimuovere il gel seguendo sempre le linee di linfodrinaggio poi con un panno di microfibra rimuovo ultimi residui del gel e finisco asciugando con asciugamano adesso passo il tonico idratante sul viso per stabilizzare il pH e idratare la pelle ora posso mettere le mie creme e siero preferite camicio con siero proseguo con la crema contorno occhi faccio un piccolo massaggio e finisco con la crema idratante sempre massaggiando per far assorbire meglio la crema eccoci qua abbiamo finito dunque il nostro viso è stato pulito, massaggiato e idratato spero tanto che questo video vi sia stato utile vi auguro a tutti quante splendida giornate ciao ciao per le azioni tadaaa